Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. E code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze, per viabilità esterna che non riceve. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali e fino a metà maggio per i lavori della tramvia lungo l'estensione della linea 1 in zona Carigi, previsti lavori di asfaltatura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!